Ancora un mistero, il ritrovamento di un cadavere tagliato a pezzi. Il macabro rinvenimento è stato fatto alle prime luci dell'alba nelle campagne di Carlentini e pubblicamente incontrata a Cicirò. Sul posto dei carabinieri dell'organizzazione e quelli della compagnia di Augusta che hanno avviato le indagini. Il cadavere apparterebbe a una persona tra i 40 e 45 anni. Il corpo si trovava all'interno di un sacco di quelli solitamente utilizzati per i servizi di pompe e funebri. Il cattivo odore che emanava in tutta la zona lascia presupporre che si tratti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione e che quindi la morte risalirebbe a diverso tempo prima. Sul posto è giunto il medico legale, Orazio Cascio, in tarde mattinata che ha eseguito i primi rilievi esterni al cadavere in attesa di eseguire l'autopsia per accertare le cause del decesso. Gli inquirenti hanno eretto sul caso un muro di riservo. Da indiscrezioni però sembra che sia presente sui resti umani traccia di un colpo di arma da fuoco ma è tutto ancora da riscontrare in sede di esame autoptico. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Salvatore Grillo che ha delegato i carabinieri per cercare di dare un'identità al cadavere. Gli investigatori stanno cercando di riscontrare l'eventuale assenza di persone scomparse di recente da casa senza che i familiari abbiano avuto notizie sia nella zona lentinese ma anche del carlentinese a Francofonte ma anche nelle zone elimitrofe tra Scordia, Catania e quant'altro.